A tutti voi un cordiale saluto, ciclismo, calcio, tennis, beach, soccer in sommario. Manca ancora un po' di tempo, parliamo di ciclismo, però si profila indubbiamente una grandissima edizione del 53esimo trofeo Città di Lucca. Grazie a tutti. Si possono notare la partecipazione numerosa, già 200 di iscritti, ma anche di qualità degli atleti al via. Cinque squadre continental, tra le quali la colpa a pallande lucchese Edoardo Cipollini, speriamo profeta in patria, il Gragnano Sporting Club di patron Carlo Palandri, sempre protagonista, la Zalfa Fior ed altri team con ciclisti che hanno già assaporato il clima del professionismo, o che lo sono a tutti gli effetti. Spicca poi, anche per altri ovvi motivi, l'adesione della Nazionale dell'Ucraina, per il Città di Lucca e anche per la Milano-Rapallo. Ma dall'estero sono annunciate anche una squadra svizzera e una del Ruanda. Del resto il ciclismo africano, vedi Binian Ghirmai, è notevole crescita. Il pedale racconta che lo scorso anno la corsa fu una selezione progressiva, con il campione toscano elite Nicolò Garibbo del Gragnano, ancora una volta protagonista e tra i più brillanti, battuto però in volata solo da Simone Impellizzeri alla sua prima vittoria stagionale, mentre Simone Carrò, sul gradino più basso del podio, completò il successo di squadra dell'Aries Cycling. Il calcio, torniamo sulla storica promozione della Carrarese, 37 secondi, nell'intervista al tecnico apuano Calabro, intervista realizzata da Cinzia Chiappini. È una gioia immensa, che ripaga di tutti i sacrifici che abbiamo fatto da quando siamo arrivati qua. Ho trovato un ambiente bellissimo, mi ha accolto benissimo, mi ha fatto lavorare come piace a me, e io penso di averlo ripagato, i ragazzi ne abbiamo ripagati come giusto me. Io ci ho sempre creduto, io ho visto la bontà della Rosa, ho visto la società, ero convinto di quello che potevamo fare, e poi bastava solamente persuadere i ragazzi, e poi io ci ho sempre creduto. Parliamo di tennis, Jasmine Paolini, come avevamo annunciato dopo la finale a Roland Garros, è salita al numero 7 della classifica mondiale. La tenacia e i progressi palesati negli ultimi tempi rendono merito alla 28enne campionessa lucchese, che adesso mette nel mirino l'erba di Wimbledon. Non esaltante il commento in campo maschile per Lorenzo Musetti, che è sceso in trentesima posizione, però al Roland Garros, Lorenzo ha dato confortanti segnali di ripresa, e adesso in questa settimana si metterà in discussione a Stoccarda, nei sedicesimi martedì, se la vedrà con il francese Perry Car. E chiudiamo con il Beach Soccer, perché la Farma e Via Reggio Under 20 ha conquistato la Supercoppa Italiana. Dopo tre scudetti in una Coppa Italia, la Farma e Via Reggio Under 20 conquista anche la prima storica Supercoppa Punto Cuoli di Beach Soccer, riscattando subito la delusione per l'esclusione dalle Final Four. Al Matteo Valenti Beach Stadio, al Bagno Flora, in passeggiata a Via Reggio davanti ai propri tifosi, i bianconieri alzano al cielo il primo trofeo stagionale Under 20 del 2024, battendo con un tirato 6-4 Bel Cagliari. La squadra dei mister Pacini, sospinta dal pubblico che ha riempito l'arena, è partita fortissimo chiudendo la prima frazione sul 3-0, grazie alla bella doppietta di Matteo Santini e dal gol di Santucci. Il Cagliari ha provato a rifarsi sotto con il portiere Bomber Gonzales, quattro centri in campionato, che ha trovato l'angolo giusto sotto al 7. Lombardi ha tolto le ragnatiere dall'incrocio dei pali, Suarez ha risposto con un colpo sopraffino, Remedio ha riportato i suoi sopra di tre lunghezze in chiusura di frazione, Roberto Boia e Suarez hanno gonfiato la rete, ma Remedio ha firmato la sua doppietta personale, la rete che ha fissato il risultato finale sul 6-4. I ragazzi della Farma e Via Reggio hanno onorato al meglio la memoria di Matteo Valenti, il giovane viareggino scomparso tragicamente nel novembre del 2004, Domenica Matteo avrebbe compiuto 43 anni, la squadra si è recata con la Coppa vinta alla sua statua a lungo Canale Est. La società bianconera ha reso indelebile il suo nome intitolandogli l'arena, quando il beach soccer è sbarcato in città grazie a Stefano Santini, l'anima di tutto il movimento del beach Via Reggino. Per anni allenatore vincente, con la prima squadra ed ora direttore tecnico della società. per la Winners' Cup, debutto vincente a Nazareth, la prima squadra in Portogallo dei bianconeri, contro i francesi del Mont-Léron, battuti 12-1. Ora sarà la volta contro i rumeni del West Deva. È tutto per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi, adesso la pausa e poi gli altri spazi dell'informazione su Noi TV.